Il mio libro ricorda di chi sei è un libro che parla d'amore, amore nei confronti della persona che si pensa possa essere parte della nostra vita per sempre e amore verso se stessi. Questo libro è stato suddiviso in tre tempi, ciascuno dei quali affronta le fasi che accompagnano la relazione tra due persone. La prima fase è sicuramente quella più bella, più spensierata, in quanto viene trattato l'innamoramento, la fase iniziale. La seconda è quella più delicata perché viene trattata appunto la rottura tra la coppia, quindi viene affrontato il dolore e la morte interiore della protagonista. La terza parte è quella più significativa perché viene affrontata la rinascita. Questo libro ci permette di entrare nel profondo delle emozioni e sensazioni che prova la protagonista, il dolore che prova nel dover affrontare tutto da sola, la rassegnazione e successivamente la fase della rinascita.